Segretario Silvestrini, come mai la CNA nell'ultimo periodo ha alzato un po' i toni per quanto riguarda la legge di bilancio e la mancanza di attenzione nei confronti dei piccoli artigiani? Noi non alziamo i toni, abbiamo battuto un colpo importante per manifestare il nostro disagio, la nostra difficoltà di fronte a una legge di bilancio che non seguiva le indicazioni da noi proposte da tanto tempo. Meno tasse, meno spesa pubblica, più incentivi allo sviluppo di questo nostro Paese. Abbiamo fatto questa campagna, basta bla bla, che sta riscotendo e ha riscosso tanti successi e speriamo che possa avere qualche approdo positivo in Parlamento in queste ore. Esatto, in queste ore il Parlamento sta discutendo la legge di bilancio, cosa vi aspettate voi, quali sono le priorità che chiedete? Noi ci aspettiamo che il Parlamento ci dia ragione su molte questioni che noi abbiamo posto, a cominciare per esempio dal riporto delle perdite, dalla proroga del Sistri, dalla possibilità di poter già progettare per il 2019 e nel 2018 l'IRI. E soprattutto ci aspettiamo che anche sull'Imu ci possa essere un segnale positivo. Siamo consapevoli delle rigidità di bilancio, siamo consapevoli delle difficoltà e tuttavia questo nostro mondo, il mondo della microimpresa e della piccola impresa, merita una risposta positiva. Confidiamo che questa risposta positiva ci sia. Indicatori interni e internazionali dicono che ci sarà una ripresa nell'economia italiana. Questo è vero? Cosa si aspetta per il mondo degli artigiani? Qualche segnale importante di recupero dello sviluppo economico in questo Paese c'è. Non è un recupero omogeneo, ci sono difficoltà in vari settori, ma tuttavia è evidente che l'economia sta ripartendo nel nostro Paese. Spero, speriamo tutti che l'economia nel 2017 si chiuda con un più 1,6 forse 1,7. Non è quello che noi ci aspettiamo, non è quello di cui ci sarebbe bisogno. Tuttavia rispetto alla drammatica situazione di qualche tempo fa, oggi indubbiamente possiamo guardare con qualche ottimismo il futuro. Stanno tornando gli investimenti, la domanda sta crescendo e quindi anche le nostre imprese potrebbero sussuuire di questo percorso positivo. Ecco perché bisogna aiutare il mondo delle piccole imprese, delle micro imprese, che rappresentano il 95% dell'intero patrimonio imprenditoriale italiano, di poter avere uno sviluppo importante nell'intercettare la fase di ripresa che è italiana, ma che è soprattutto europea e mondiale.